La Woody with Pecker Show Questa è la storia del Pony Express e dei coraggiosi cavalieri che trasportavano la posta tra San Joseph, Missouri e San Francisco, offrendo un raro esempio di eroismo. Non so più che cosa fare, non ho più staffette, questo lavoro è troppo pericoloso. Devo trovare subito un altro cavaliere. Ehi, buon uomo, salute! Di un po', ragazzo, vieni qua. Che c'è, paparino? Sei capace di andare a cavallo, figliolo? Hai voglia di scherzare? Stai bene attento. Aiuto! È completamente faccio! Cosa ne dici, sei convinto che so andare a cavallo? Sì, certo, sei asciunto. Eccomi qui, signore, il rapporto. Ecco qua, dovrai consegnare questa cartolina a San Francisco, però non dimenticare il franco bollo. Sicuro, vuoi anche il timbro? Al galoppo! Sampadulce, preparati tra poco, arriverà il nuovo cavaliere per il cambio del cavallo. Sto arrivando! Su, muoviti, zampadolce! Quello lì andrà benissimo. Ormai se ne sarà andato. Lui! Ehi, ma la vuoi piantare? Volere sacco posta, dove nascosto? Non ho nessun sacco della posta, ho solo questa cartolina. Pazienza, prendere cartolina. Ehi, qui non c'è franco bollo. No, ma rimediamo con un timbro e zampadolce è un bel timbro al nostro indiano. Ecco, prendi un bocconcino, zampadolce. Meno male che abbiamo seminato l'indiano. Tieni, ecco un altro bocconcino. Non temere, zampadolce, è solo il verso di un coyote. Ti ho detto che è solamente un coyote. Ora gli getto un bocconcino. Molto buono, mangiare ancora! Sarebbe meglio gettargliene un altro. Credo che darò un'occhiata. Oh oh, i coyote non hanno penne. Gli darò un boccone che non dimenticherà. Questo è duro come i suoi denti. Ehi, 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 ehi. Arrivo subito, signor coyote. Eccolo arrivare. Gli fare cadere addosso grossa pietra. Vogliamo fare un riposino, zampa dolce? Alt, sento che c'è qualcosa di poco chiaro Questo essere antico trucco indiano molto efficace Quando picchio passare di qua, zamp, eccolo arrivare E così il nostro prode eroe giunge finalmente a destinazione Eccoci arrivati, zampa dolce, quello è San Francisco Pony Express a rapporto, signore, ecco qui la sua cartolina Già, ma ha francobullo e timbro Timbro? Zampa dolce? E qui?